Buonasera Italia, siamo qui in Roma con il mio amico, l'amico d'Italia, si chiama Deadmauz. Deadmauz, prima di tutto grazie per venire qui in Italia, ti piace qui? Ah già, non dire questo, non dire questo, per favore. Deadmauz, dimmi, qual è il ristorante preferito di Deadmauz? A me pure, mi piace la pizzeria di Donatello, è bellissimo! Deadmauz, ok ok, un altro, un altro, un altro questione di tutti, le persone con il microfono, chi ti piace di più? Grazie, grazie Deadmauz, sono io, ci piace, a Giuseppe, grazie, qui siamo a New York Nights, back to you in America! Grazie a tutti!